che sei più merda è già piccolissima raga soldato indica un punto di lancio per il film ci siamo pronto verso di voi è meglio se dispostate bene non siamo giocatori ragazzi no decisamente no eh sono tutti qua dai ma che cazzo di siamo dalla stessa parte non puoi ancora obiettivo aggiornato sicurezza quella posizione una bella rega c'è solamente la pistolina non ho pure e non ho corazzi lo pusciamo randaco in due saltando agli addosso eh no ci avrà già le armi ora sì sì col finocchio c'è già le armi te lo dico io vogliamo andare per il suo è io no però è dentro quel palazzo mi spara senza munizioni ho marcato un fucile di precisione sono tanti sono tanti porco diezzo ci stanno busciando sono tre sono tre merda ma c'è un altro team sul tetto là poi qui mi ammazzano il modo appeso io c'ho solamente dieci colpi delle piccole la m14 ho fatto uno di quelli sul petto io non ho coraggio più che altro siamo tutti e tre queste ce l'avranno già tutte c'è un cecchino occhio sul tetto c'è un cecchino raga c'è un cecchino non sono riuscito a prenderla ma com'è che c'è questa gente voglia non sto capendo sta cosa c'è sono due barra tre tutti di noi vecchio tu mi hai rotto il cazzo vecchio ma mi ha rotto il cazzo questo qui c'è gli altri sono ancora coscosso no non lo so non credo io rimango così perchè so già che eh ma tra un po' raga la safe chiude tredici dodici cingci tipo eh non muore i tuoi non muore c'è una piccola i tuoi stop tra i caracce figlio di puttanazza no porco dio callo callo ah abbiamo perso che push ah non so perchè voi eravate giù callo fuori è finito ah quello li è dentro invece era ucciso raga ma ucciso non riuscivo più ad entrare il figlio di puttana sarà camperato dentro forza tutti alla zona sicura e niente quel cecchino la vecchia non moriva non moriva un ottimo sistema callo callo no gibo 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 bomba cazzo dai c'è in sta cazzo di modalità basta buttare le bombe a minchia basta e a destra dal suo sconto a destra a destra dalla piccola no mezza colonna destra mezza colonna ok preso 13 di vita è ancora lì è ancora lì ok vinci questo scontro e torni in prima linea perdi e perchè è finita è ora spezzale bravo 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 ce la faccio però abbiamo già streccato il ma poi raga non ho capito come l'avete fatto morire e io stavo faifando ero tipo tre ore con l'incettino sul tetto solo che io avevo un sacco e io avevo un ucetto e io non avevo armi non avevo armi cioè non avevo munizioni più che altro ho provato a prendere l'arma e mi ha shottato cambia posizione ricevuto immagini ignorate radar personale nemico in volo non 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 che che è venuto qui la cosa che possiamo fare è fregare la macchina e andare a parte di cano andiamo a investire un po' di persone che ti devo dire la vinciamo così con le pistole a me è volato, mi siedo di fianco ciao ronda ma dio tutta la mezza tutto già luttato guarda cos'è la bellissima guido io adesso sarebbe stupendo che trovate un team nuova zona sicura contrassegnata devo seguire con cura ranna mi sa che ha sbagliato classe no no è la classe giusta cioè tu hai scelto veramente la k47 si si voglio provarlo voglio provarlo calma cos'è stata questa cosa qua non lo so ho sentito un triple bombardamento tum 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 churro eh raga per luttare ne so non ne sa che dire ingacho ingacho che dirgli sta 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 Aspetta, voglio provare a farla più del secolo. Mancato. No, forse, non so neanche se ci arriva il colpo a dire il vero. Si, per arrivare ci arrivo. Devi mirare un po' più alto però. Ma di poco, non di tanto. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma che cazzo, ma ci sono... ci sono spari anche da qua? Cioè, da sinistra ci sono spari. Qua da... Qua di marino, vado. Vai, vai, rubategli tutti i soldi, rubategli tutti i soldi. Vecchio, sei rianimato. Ragazzi, è partito! Non ho munizioni, Gigo, non ho munizioni, non ho munizioni. No, 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 no. Si sono rianimato. Si è rianimato. Si sono rianimato. Si sono fatti scappare così, vecchio. No, 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 no. E non avevate munizioni, era? Guido io. No, è vero, è vero, è vero. No, è vero molto forte. che c***o che c***o che mi spogliate dai, ci ha fatto l'ora dai, munizioni proprio zero, Cristo ma veramente ha fatto colpi del pezzo ah, anche i tuoi colpi del sciocchino eh, lì qualcosa trovate sicuro però rischiate anche di trovare se non trovate niente neanche qua siete sfigati una piastra ci faccio tanto con le munizioni del pompa, porco giuda mi vuoi mi sposto qua dove? madre dove il contratto? sono sul pezzo vedo movimento scusa, guarda il mirino come sono sul tetto guarda il mirino mi sembrava bagato il mirino che ti faceva vedere tutto nero l'ho intravisto per un secondo quando mi ho messo anche buttato perchè non lo vedo più troppo obiettivo localizzato sì ma non possono non esserci munizioni cioè ma è possibile che hanno buttato tutto 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 no, l'altra volta ho munizioni in mitraglietta vorrei lasciare giù un assalto dai, io la... uh no, non ci sono munizioni no, io c'ho solamente 60 colpi i posti troppo obiettivo localizzato io giro siamo nella zona sicura, pronti a ingaggiare un po' di ponte, non ho parola la!!! mi muovo insieme all'ordine della cassa di multibere oh ecco wow il ballo è selvatico fai 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 tutto lo allutto ah se riuscite a reanimarmi mi prende un'arma qua ho visto che ci sono delle armi cassa di scorte identificata posizione contrassegnata senza di armi ci sono non vado a rianimare il giubb oh finalmente ho fatto il giubbacca anche se uomini nemico in volo non ci sono ho la cassa di munizioni ragazzi vi serve ah i nemici 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 basta non lascio pietà a nessuno non l'ha subito nessuno ora di bocchio perché ha rianimato l'alleato bombardamento dove hai messo la cassa è morto c'è l'alleato in vita e c'è l'alleato in vita che non si sa dove cazzo si sia paracadutato ci abbiamo anche la taglia su di me tra l'altro siamo nella zona sicura pronti a ingaggiare vabbè io c'ho la cappa d'oro in tutto ciò non ho provato a cercare munizioni questo è quello che siamo arrivati all'ultima ferita questa è l'ultima safe si cazzo e tra l'altro siamo piazzati anche bene la cassettina che quando esplode fa un cazzo di rumore allucinante rotto a terra usciamo senza pietà non mi interessa tutti lasciate stare perché lasciate stare vecchio e no perché c'è un problema perché la set è piccola quindi ci sono altri nemici in giro aveva solo di animazione no dico che un attimo che ci arrivano altri nemici da dietro e c'entrano quello si ok però non possiamo lasciare in vita nessuno dove è che c'è un morto spostamento della zona sicura eccoli eccoli avete i cecchini se avete il cecchino piazzatevi qua e mirate verso di là perché ci sono nemici anche dietro di noi ok avete chi? eh molto probabilmente forse vanno allo shop vabbè lo shop io ce l'ho sottotiro no non lo vede eh da qua non si può vedere si l'ho fatto su no no non si può vedere giù aspetta nanna no non riesco a dire facciamo una cosa facciamo una cosa rimanete qua e rimanete qua vado io da solo no 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 perché devi morire Rand ma no mica vado a morire Luca sicuramente qualcuno verrà qua allo shop sicuro minaccia arancione ragazzi minaccia arancione si chiudo la parca arrivo su minaccia rossa sono qua da noi ragazzi la 6 sta arrivando occhio dietro comprate le maschere se non avete l'occasione la 6 sta arrivando è una situazione un po' di merda come al solito e ne vinci un la davanti attenzione è marcata vado da dove cazzo passiamo da dove cazzo passiamo gas in arrivo alla nuova zona sicura una torre dai ragazzi dovevano il pezzo è su primo si occhio venite qua dietro venite qua dietro venite qua dietro bombardamento di precisione areato e ora guarda come ti c***o venite qua venite qua entriamo questa casa a terra non tratto fallito ritirata raga è nevist qua vi ho visti ok ok merda ma c'era uno dietro di me ragazzi esattamente in quella casa lì no l'abbiamo li stiamo lasciando alla nostra destra aranda si ma io ombre verso destra che ho più coperto ecco si anche perchè allora sono sul tetto sul tetto raga non sparate non sparate non sparate non sparate ce l'abbiamo di fianco a terra ce l'abbiamo di fianco ci fanno gas in arrivo zona sicura riposizionata ah io non ho più bombardamento ora però c'ho un drone se mi assicurate protezione lo mando prova prova veloce prova perché 10 secondi 10 secondi ok sono sei persone dentro questa casa vedo movimento 3 dentro questa 3 dentro questa vedo movimento ok verso sinistra o verso sinistra 3 di qua e 2 di qua vedo movimento come faccio sinistra via 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 c'è meno gente di qua che di là ci sono nemici anche di qua però qua sono sì sono in 2 2 e 3 dietro di me ce ne sono 6 il tetto piazza una carica meno di 10 veloce no rega 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 dai ragazzi però stavate salendo che cazzo porco dio cioè era uno da solo uno da solo sopra vedi qual'è il problema i fight dovete cominciare l'ho che mi dovete abbandonare andare andare il lavoro me cazzo alzati combattenti a poesce questione di merda spesso che prendo maschera e sensore spetta randa ce l'abbiamo uno davanti e due a destra uno qua sopra di noi, uno qua sopra di noi Randa Randa, uno dietro di te resisti, calo, calo, resisti, calo, resisti si, si, si si, si si madre, l'auto di animazione l'auto di animazione fa pag Ampēr, troppo un으로 noi li odiano, le ho mandati Erfahrimento discorso, perché sennò Randa era���ita no no infatti è troppo buono, è troppo buono no via guardate tutti i piedi il giudice il giudice che poi alla fine con i 2 c4 che tu non è che se non può sopra bene mandato a terra ho mandato quasi a terra quell'altro perfetto 14 cc